Un felice risveglio a tutti voi da Marcus, buon giovedì mattina, serata di estrazione, quella di questa sera, 14 luglio sarà appunto la sesta estrazione del mese, prima di iniziare il video come al solito, chi è nuovo consiglio l'iscrizione, sotto ogni video testino rosso, iscrizione e campanellina, con la vibrazione alla prima in alto per attivare le notifiche dei nuovi video. Allora abbiamo parlato del 90, abbiamo parlato del 56 di Genova, ancora una volta ci sarà una buona occasione anche per Genova, c'è una somma, 56 le andremo a vedere, il 90 tarda da 4 estrazioni, qui a lato abbiamo visto i periodi quindi di assenza del 90 partendo da gennaio, quindi da gennaio fino a giugno sono stati di 2, 5, 4, 3, 1, 5, 2, 4, quindi adesso siamo nell'asso dei 4 colpi di assenza, probabilmente questa sera e probabilmente sabato il 90 comincia a riaffacciarsi, vedrete sulle ruote, le ruote erano rimaste Genova, quindi Firenze Genova e Roma e Torino, quindi sono le 4 ruote indicate, le andremo a vedere poi nell'altro schema, quindi questi lassi di tempo avete visto stavolta siamo nei 4, nell'ordine dei 4, se dovesse tardare questa sera rimane un 5 e quindi sabato potrebbe sganciare il 90, quindi o stasera o sabato il 90 potrebbe farsi il suo colpi di assenza, sulle ruote di Genova, quindi Firenze Genova e poi Roma e Torino, allora andiamo a vedere nel dettaglio il 90 per prima, l'ultimo 90 appunto che è sortito era stato a Palermo, vedete era il 2 di luglio, quindi guardate il procedimento dell'assenza del 90 su tutte le ruote sto parlando, non su una ruota sola, quindi 1, 2, 3, 4, 5 estrazioni questa sera, ma sarebbero 4, perché 4 assenze quindi siamo nell'ordine giusto da gennaio adesso e quindi come vi ripeto adesso quindi giovedì stasera e sabato potrebbero essere già quelle estrazioni dove il 90 potrebbe farsi strada e abbiamo visto tutti i percorsi del 90, guardate questa è la classifica che rimane quindi adesso Firenze Genova, Roma e Torino, questo schema l'avrete visto un sacco di volte ma finché non esce il 90 ovviamente la situazione delle 4 ruote migliori o delle 4 ruote top che fino adesso la classifica del 90 è sempre andata per il meglio, quindi Firenze Genova come vi dicevo, se avete delle vostre convergenze queste due ruote, Genova è stata veramente bella perché c'è sia il 9 che il 90 di Palermo, l'ultimo 90 che punta proprio su Genova come ambatta contata e poi il Firenze, il 9 di Firenze che cade a Genova e può trasformarsi in 90, quindi nessun 90 con queste ruote si è fatto vedere. Adesso parliamo velocemente del 56 di Genova e Palermo, allora situazione di partenza di sabato 9 luglio, il 56 di Firenze punta Genova, questa è l'ambatta contata, il 65 vertibile punta Palermo, sono due azioni che su ruote gemelle sono fortissime, quindi le posizioni in giallo sono sempre date dalle situazioni date dall'8++, voi sapete che quel programma l'ho presentato un sacco di volte, quello di Roberto Borrelli che vi fa indicare sia la frequenza sia le posizioni migliori di ritardo, quindi la prima, la seconda su Genova, le più forti, quindi di ritardo e su Palermo 56, quindi sulle ultime posizioni, la quarta, la quinta, come vi dicevo già nell'inizio del video, Palermo ha già dato l'ambo in cinquina, ma voi sapete che i numeri si possono ripetere, quindi attenzione, 56 può farsi strana anche su Palermo, anche con quegli abbinamenti che sono già usciti, quindi Genova diventa quindi forte perché andremo a vedere la somma 56 che c'è, che si è verificata qualche stazione fa e poi il 56 comunque sia che può ritornare a Palermo perché c'è la frequenza, andremo a vedere, la ruota di Genova è su YouTube, quindi con il 56 con gli abbinamenti, il 56 invece di Palermo è sul gruppo Telegram, quindi le due previsioni non cambiano, sono fortissime tutte e due, quindi o uno o l'altro dovrebbe sganciare il 56 su Genova o Palermo. Situazione di Genova, guardate qua, 56 che si livella, siamo ormai 22-23 conso nella statistica, poi abbiamo le due posizioni, come vi dicevo, la seconda e la terza sono le più forti, guardate, non la prima, forse c'è stato un errore, vediamo se ho fatto un errore, sì non è la prima e la seconda, ma bensì la seconda e terza posizione, vedete, sono le più forti, quindi attenzione, seconda e terza, c'è stato un errore nello schema principale, ma la seconda e la terza sono le più forti, ecco qua quello che vi dicevo, allora la somma 56 Genova-Venezia, questa recentissima, quella di sabato nel 9 luglio, vedete, 33-23 Genova-Somma 56, quindi attenzione, non solo c'è l'ambata contata che va bene su Genova-Palermo e può riflettersi quindi su ruote gemelle, ma abbiamo anche proprio la somma 56 come è successo col 38 di Milano-Napoli, vi ricordate che poi è arrivato il 38, quindi somma 56 Genova-Venezia sono veramente due situazioni con l'ambata contata eccellenti, non buone, ma eccellenti, quindi attenzione, previsione rimane sempre questa, seconda e terza posizione, quindi ho messo giusto, quindi non la prima e la seconda nel riquadro, ma la seconda e la terza posizione su Genova, ha fatto un errore prima, non tenete conto del primo riquadro, questa è quella effettiva, quindi su Genova, 56 come è l'ambata, gli abbinamenti rimangono sempre tali e quali per questa ruota, mentre nel gruppo Telegram invece, situazione diversa, sempre con 56, ma con altri abbinamenti, come vi dicevo, subito al primo colpo, sono arrivati due abbinamenti per il 56 a Palermo, adesso vediamo con questa situazione del 56 Genova, che cosa succederà, data la somma, guardate, la somma 56 fra Genova e Venezia, quindi situazioni veramente bellissime su Genova e Palermo, due ruote gemelle, la situazione del 90, ve l'ho già detto, secondo colpo di gioco per entrambe le previsioni, quindi su YouTube e Telegram, io ragazzi vado al lavoro, sono le 5 e 30, se non sbaglio, vi devo lasciare e ci riaggiorniamo poi, oggi pomeriggio sul tardi, ok? Ma comunque le previsioni sono tali, quali, come sono rimaste poi quelle che vi ho dato, quindi martedì, ci risentiamo, alle prossime news, un abbraccione a tutti voi da Marcus, ciao e ancora buon giovedì! Mi raccomando, iscrivetevi e attivate sempre la campanellina per essere avvisati del nuovo video, ok? Un abbraccio, grazie a tutti, Marcus!